Ciao ragazze, buongiorno, anche se è mezzogiorno, siamo da Katia Giacchè, finalmente si rinizia, ricominciamo, nuova collezione, abbiamo perso un pochino di tempo, c'è stato un episodio che poi vi racconteremo, qualcosa che ha frenato l'apertura del negozio, poi ne parleremo, ma adesso io ho un'assistente di turno, una nuova, butteremo tutto a terra, una nuova, una nuova, ora per il battezzo, iniziamo! Allora ragazze, iniziamo dal pezzo che è piaciuto alla sore a Katrin, Chanteclè, lo ha deciso di Katrin, no io volevo far vedere, ma io gina Enrique, bellissimo, si piace tanto, da mettere con un jeans a vita alta anche flair, bello, con una giacca nera sopra, esatto, nero e panna, bello, mi piace, mi piace, di solito non mi piace il bianco e nero, ma Enrique mi piace tantissimo, noi abbiamo, si, è proprio autunno-inverno, colore nuovo, io lo definirei prugna, lo definirei, eccolo qual è l'abito in vetrina, non ha spacchi, si c'ha un piccolo spacchetto, vero? Dopo glielo facciamo provare, dopo glielo facciamo provare a Katrin, o tornerà a Chiara, non lo so, bello, molto molto bello, si, ricordo che i capi di Katia sono assortiti in tanti colori, sempre due o tre varianti di colori, ma sono anche molto low cost, quindi ragazzi scrivete a Katia sulla sua pagina Instagram, vi lascio nell'info box tutti gli account, i contatti, a seguire vedo un bellissimo cardigan, ecru, sabbia, col cappuccio, questo era quello che era piaciuto a te, altro pezzo che, questo mi piace tantissimo, si, è bello, quindi anche molto comodo, che ci si può abbinare una maglia che ho visto là su in cima, ok buttiamo sul, portando bene, si, buttiamo qui sopra, con le licenze, si, si, è uguale, si, siamo dipendenti, sottopagate, zero pagate, questa maglia che io ho, adesso l'abbiamo in altre varianti di colore, è sempre il manetino nudo, affrettatevi perché abbiamo avuto già delle che fai vendite, abbiamo, con prugna di cui parlavamo prima che quest'anno qua tantissimo, si, verde acido che quest'anno anche qua, ci piace, questo io ho questa, mi sono presa questa, guarda che belli, che te l'ha dati, sono arrivati questa mattina, ma che belli, sempre l'anonimo, veneziano, ma davvero, ti giuro, complimenti, allora ragazzi, adesso vi facciamo vedere un'altra carrellata e poi passiamo anche agli abbinamenti oggi, io ho le scarpe in tinta alla collezione di Katia, allora poi, altri capi, 1 e 1, si, questi ce li andremo a provare, io, io e Chiara, Katrin, 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 faremo scatti, poi mettiamo a posto, bello, voglio farlo vedere, è manata adesso, lo indossiamo così glielo facciamo, vedi io qua, bello, veramente, veramente bello, con le mie scarpe, allora, abito e cardigan, che sono la mia coppiata, cominciamo con i coordinati, sì, Katrin, come si è rivoluzionato, ho ripassato il video, c'è un consentore, sapete che avremmo fatto, ton su ton, professionale, facci un doppio passo underground, è lo yoga, questo è l'avvitino color prugno, l'avvitino color prugno, l'avvitino color prugno da mettere anche, anzi, un po' anche, non alzo perché, a lei non c'è dietro, ok, ed il cardigan identico, stesso tono ragazze, qui è uguale, identico, io l'ho preso, io ho preso questo, wow, io ho preso questo cardigan con questa maglia, con l'intreccio, sposta lui, alzaglielo, passaglielo, che non ce l'ha panico, brava, ogni anno il colore di tendenza, ce l'ho petrolio, nero, grigio, cammello, quando ci fai il pezzo, no, perché meglio, non ti fai il pezzo, che poi ci si può mettere l'abito sotto, abbiamo i manichini sempre nudi, come so, carini, anche i pantaloni sono una nuova collezione, per tornare al prugno, questo perché io ho delle magnifiche calze, solo solo, vuoi far vedere, no, le faremo vedere nel momento, perché le dobbiamo anche articolare, bisogna anche, non è che possiamo far vedere queste calze, dico, questa è impazzita, c'è una motivazione che poi, Katia non è stata bene, ragazze, comunque, e ti credo, sta bene, ha le more soprattutto, ma quella è bionda, è bellissima, e sta bene anche perché fa un effetto tonale, tra il trench, prendi l'abito, sia quello corto, se ci riesci, Chiara, se no prendi gli appesi, bello questa sfumatura, tra l'altro quando dentro è più scuro, quando hai il risvolto della manica, giustamente si vede, e anche quello corto, perché c'è anche chi non ama gli abiti lunghi, per cui può, è della stessa, sì, l'abbiamo fatta, la giochetta, adesso la facciamo vedere, Katia, mi fai quello che ti faccio io a te e che non ti vado in ordine, brava, brava, io non vi volevo disturbare, ma ti fai disturbato, va bene, me ne vado, no vabbè, partecipa, con i guanti, il lattice che ci mette paura, me ne vado, me ne vado, allora, quell'abito che vi abbiamo mostrato in lana, sempre manica corta, poi comunque c'è un cardigan da metterci sopra, c'è anche in versione bianca e questo bellissimo, verde, lime, pistacchetto, bello, questi sono i colori che comunque abbiamo visto, vedremo, si è visti anche sulle passarelle, c'è anche questo petrolio che sta prendendo piedi, io l'ho visto tanto nei negozi, questo color petrolio, che a me questi due colori non dispiacciono affatto, allora abbiamo mantenuto questi due pezzi, perché in realtà vi vogliamo scoprire di un altro abbinamento, guarda che bello, questo mi piace da matti, infatti ero indecisa, questa giacca in panno, in lanetta, molto morbida, io prendo uno di quei pezzi che mi piacciono, perché te li puoi portare anche dietro nella borsa, nella valigia e non si sgolciscono mai, veramente mai, mi piace tanto, fa un effetto tonale, brava, che poi mi piacciono tutti e due perché non hanno il collo alto, aspetta per lui, vai mamma, ma tu stisci se devi, bello, 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 bellissimo, bello, e anche questi ci abbiamo fatti vedere, se vogliamo far vedere tutto di quel colore, allora, io lascio la giacchina qui, sì perché con la giacca bene anche questa camicia, guardate questa camicetta cos'è, facciamo vedere pure la manichina, sì, bello anche la giacca insieme alla camicia, poi volendo si può anche mettere la camicia con il maglione, volendo, c'è anche questo maglione nei due colori, volendo Catherine, ce l'ho fatto io, ha buttato il maglione in terra, perché la camicia si può abbinare anche con questo maglione, o anche questo maglione, volendo, si può abbinare anche questa giacca, proviamo a vedere se quel verde ha ragione di potersi che è molto più cubo, bello, bello questo, belli questi colori che stanno andando, c'hai ragione, nada le nada, no, e volendo, ha preso anche questa camicia, Catherine è lei? Catherine, Saint-Claire, lo sgrassatore, Catherine ha preso quest'altra camicia che c'è anche una tradizione di colore, bellissimo color cioccolato, tu sei Sabrina, levati, ma tuo padre ti chiamò Sabrina, più di qua, più di qua, esatto, facci vedere la versione cioccolato, si allontana Catherine per prendere l'altra variante di colore, molto bello anche perché il marrone sarà uno dei toni del momento, anche questo, bello, bello questa, bella proprio c'è Katia dietro che sta operando, sta sistemando, pulendo, disinfettando, vedete che c'hai i guanti, è un negozio serio, è stato chiuso parecchio, quindi Katia giustamente ci viene, per concludere, anche il pantalone, facciamo prima il pantalone, concludiamo con questo stand, si, con una bella cinta, ci sta tutta, è un abito plissé, quindi è possibile portarlo anche con una bellissima cinta, Katia ha preso diversi accessori, anche le borse che dopo vi faremo vedere, ci sono tantissime novità anche in fatto di accessori e questo era l'altra versione, l'altro abito, un abito un po' diverso dal solito, anche perché ci sono bussi diversi, di tesi da diverse, ognuno il suo, anche ha pantaloni, per chi ama i pantaloni, per chi ama variare, in petrolio e in cioccolato, che è questo plissé, che possiamo anche mettere a terra e fare degli accostamenti in due versioni di colore, Katrin ha tirato fuori dagli stand anche per accostare, abbiamo adagiato tutto in terra per farvi vedere gli accostamenti, cioccolato e i due pantaloni, ovviamente le due versioni di colore, cioccolato e petrolio, un petrolio bello vibrante, maglioncino traforato, sta benissimo con entrambi i pantaloni e anche questa giacca che vi abbiamo fatto vedere prima in color ciclamino, chiamiamolo così prugna, io l'ho definito, sempre in panno bianca, bellissima, anche questa è molto bella ragazzi, io me ne sono innamorata, sono stata io, avete visto su Instagram le storie, sono stata io a convincere Katia a prendere questa giacca e la nostra amica Katrin, da dietro le quinte tira fuori dal cilindro, il pantalone, che vi facciamo rivedere perché così non ve la dimenticate, petrolio, un petrolio un po' più scuro, però è sempre una variante, sono della stessa tonalità del pantalone, però ve le facciamo vedere lo stesso perché sono veramente belle, la camicia è bellissima, Katrin si è spostata di stand, Kat fonditi voglio le pantaloni di cioccolato, e quindi la versione è anche fango, bellino veramente, con i pantaloni a vita alta, con una vita alta, per chi ovviamente come me non ama scoprire il pancino, poi ci sono due bluse con le maniche plissettate in due versioni di colore, che dopo semmai vi facciamo vedere con il pantalone, se ci riusciamo, poi pantaloni, abiti per donne curvi, maglie anche, potrebbe essere un abito e può essere anche una maglia per una donna curvi, che io li vedo bene in entrambi i casi, versione diciamo semplice, questo qua versione con la manica in ecopelle, benissimo, ha anche una collana in dotazione, che belline, mettiamoli in terra perché abbiamo dei pantaloni da abbinarci, più ecco a questa, esatto, vedi che Kat sta imparando, pantalone facciamo vedere la bellezza flare, in diverse, un pantalone flare molto elegante che c'è in diverse taglie, che si abbina benissimo all'abito barra maglia, soprattutto quello con le rifiniture in, soprattutto questo con le rifiniture in ecopelle, quindi pantalone flare in diverse taglie e poi ci sono belli i pantaloni, ai pantaloni neri Katia ne ha sempre questi, via sempre, molto più comodo, morbido, questo ce l'ha sempre Katia, sì anche i jeans, andiamo a vedere invece le novità, c'è anche un altro abbinamento che non abbiamo fatto vedere, che è in questo sand, sempre per voler buttare in terra che ci diverte un sacco, vogliamo copiare Katia, bellissimo anche questo completo, questo di tessuti, poi il pantalone è bello elegante ma è comodo, il pantalone è bello elegante comodo, voglio dire, bello, andiamo avanti, ragazze, questo è, mio lato preferito, vai Kat, allora, ricordate quel magnifico traccio che ha provato prima, c'è rimasto una, l'altro sta in vetrina, due versioni di colore, colore, è chiaro ormai è una professionista, l'abbiamo addentrata nel mondo della moda, ormai sono rovinata, meraviglioso, meraviglioso, bello anche, ma dopo lo proviamo, lo proviamo, lo proviamo con due versioni di abito, poi accanto ci sono abito donna curvi, abitone, semi camicione, che si può mettere anche col trench, perché quel trench in realtà è taglia, che vanno a taglie Katia? No, taglia unica, perché in effetti comunque è elastico, comunque è un capo che si può adattare a diverse fisicità, non è che il trench, esatto, guardala, è diventata una professionista, guarda, guarda, bellissimo, ha diverse cinte Katia da poter abbinare a quest'abito, anche perché ha delle rifiniture sul verde, quindi ci si potrebbe mettere anche la cinta verde che era lì in cima, e Kat torna indietro, e Kat prende la cinta verde, e Kat ha capito, bella, la cinta è molto molto bella, perché ha una fibbia particolare, è fatta tipo a mandorla, bellissima, bella, mentre da questa parte, perché io torno qui, c'è un altro abito che è un po' damascato, come dice la Kat, ieri dal fornitore la Kat si è inventata, bello, può essere un abito o una maglia per una donna curvi, siamo sempre lì col discorso, molto bello, dopo vi faccio anche vedere le borse, perché ci sono diverse borse che si possono abbinare ai diversi capi, silenzio, passate la voce, abito multicolor, questo è bellissimo, bello, 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 con tutti questi colori, anche qui cinta verde, cinta ciclamino, ne ha diverse Katia, anche gli accessori, dopo vi li facciamo vedere, sì, questa verde è la sua, anche le altre che lei ha, belle anche le borse che sono novità, dopo vi le facciamo vedere, esatto, c'è anche petrolio che ci potrebbe star bene, c'è anche la cinta petrolio, e poi arriviamo ad un pezzo che ho scelto io dal fornitore, in due versioni di colori, esatto, rullo di tamburi, tira fuori queste giacche, perché, adesso andiamo su quel bel tappeto a buttarcela sopra, vai, esattamente, c'ho l'olio dall'altra parte, questa giacca è bellissima, mi piace da matti, SM, non so se ha preso anche una L, low cost, rispetto, una fantasia diversa, non vista rispetto a quelle di Zara, ma ovviamente un prezzo decisamente diverso, un prezzo decisamente inferiore, ci si può mettere anche le crew, qualsiasi colore sotto, però questi due sono praticamente il top, andiamo di là, un po' a rimettere meno, vediamo anche l'altro colore, ci sta bene il cioccolato sotto, cammello, questo celeste vivo, cioccolato ha anche la blusa in alto, un po' più scura, però ci può stare, sì, esatto, oppure un tono anche di petrolio, perché no, tipo la camicia che sta in basso, fai un gioco tonale, quella che abbiamo visto prima, che c'è anche in color ciclabino, esatto, e poi di lato, di nuovo, la giacca panna, che c'era anche in color ciclabino, che io, pazzisco, la devo far rivedere, perché sta giacca è veramente bella, la faccio vedere da vicino, è finita bene, è bella, veramente bella sta giacca, faccio vedere anche, è tipo panno, secondo me adattissimo per questo periodo, è bellissimo, e a sotto, stand sotto, abito prugna, bellissimo per una serata, il primo, esatto, modello tipo tulipano sotto, se novi, eccola, anche lei è il tono ciclabino, io invece mi sono messa anch'io, scarpino, però se queste scarpine te le sei messe a forza, certo, tu pensi che io faccia le cose così, grazie, andiamo avanti, avanti, beh io mi trovo bene, vabbè io ho il piede, rimuginato, andiamo avanti, maglie molto semplici, comode, una è blu o nera Katia? no, è blu, blu e cru e petrolio ed ecru, molto carine da mettere con i jeans, si può mettere anche sotto la giacca di panno, queste sono maglie che si prestano, vedi, sotto la giacca in panno, stanno benissimo, stanno benissimo, entrambe belle, per chi ama magari un look più sportivo, c'è anche questa, più panna, vedi che fa anche molto bene, questa è molto bella, questa ce l'ho, in un altro colore ma ce l'ho, infatti mi sono pentita che non c'è più la mia taglia, di non averla presa S di quel colore, perché tu ce l'hai, mi sa, no, hai presa tu panna, bianca ce l'ho io, panna così mi manca, io voglio una giacca panna, dovrei, ma marrone, cru, marrone fango, fantastico, panna, andiamo avanti su questo stand, allora i pantaloni comodi che abbiamo, eleganti che abbiamo fatto vedere, i verdi, li abbiamo in questo variante di petrolio, e neri, comodi, leggermente flare, con l'elastico, versatili, però lo stesso da qua che è molto sexy, ne ho visti tanti, in giro ho fatto anche degli outfit io e via dicendo, e che tra l'altro sono anche, è possibile anche per le donne curvi, portarli sotto le maglie che Katia ha preso, over, tipo questa maglia che ha preso Katia, un po' plissé, ruggine e petrolio, con del viola, che volendo si può mettere anche con una cintina in vita, esatto, mi piace, vai, riponi, altre bluse, questa è l'altra versione anche fiorata, sempre con questo color ciclamino che torna, prendi l'altra blusa, vai, facciamole vedere entrambe, due varianti di fantasia, bene, e tra l'altro le cinte ci sono, sia petrolio, sia ciclamino, c'è tutto, Katia sta per morirmi qua asfissiata, fai vedere anche l'altra blusa con questa giacca, dov'è la blusa fiorata? Non la puoi mettere a terra? Allora, blusa, blusa e giacca, blusa e giacca, giacca in panno come quella bianca, un'altra variante di fantasia, abbiamo anche le cinte in tinta, tira giù quell'altro abito, vai, altra blusa ragazzi, in color ciclamino, bellissima che si può mettere sotto la giacca che ho fatto vedere, in alto il blazer a doppio petto, perfetta, facciamola vedere in terra, stiamo facendo gli abbinamenti, bello, accanto c'era anche il pantalone volendo fare il completo, un pantalone comodo, uguale alla blusa, uguale alla blusa, volendo se volete una cosa più lunga possiamo abbinarci il cardigan ciclamino, magari non amate la giacca ciclamino, la giacca blazer, allora dal video non si capisce, però comunque è molto simile al pantalone, non so perché mi sfalsa un po' i colori attratti, dopo di che passiamo agli abiti per donne curvi e non solo, che ci si può mettere tenendolo sempre in piedi, allora abito per una donna curvi e non solo perché una cinta può essere sfruttata anche da una donna da una fisicità diversa, che può essere abbinato con diversi capi spalla, trench, cardigan lungo, esatto, o anche la giacca tonale che abbiamo fatto vedere prima in panno, va bene che ci si può mettere sopra, versione di colore sempre a sfondo e crew che ci permette di giocare con altri capi spalla, in effetti è possibile sfruttarlo con questo trench camel, ovviamente l'altra versione di colore di quello ciclamino, bello anche in questo caso mi piace molto la versione petrolio, nero per chi ama il nero ma per me i colori sono immancabili, nell'armadio ci deve essere un po' di colore e comunque c'è questo trench che può essere abbinato a tutti e tre volendo per tenere un capo spalla neutro nel nostro guardaroba, ma anche quello ciclamino che stava bene con il trench ciclamino sta benissimo con quel trench camel, ultimo, e questo piace a me, secondo me va bene anche per una fisicità come la nostra, mi piacciono tutto e due lo sai, con una bella cinta questo mi piace lo sai, ve lo voglio provare, trench entrambi sia camel sia ciclamino per entrambi le versioni di colore, sabito è bellissimo, io direi di farlo vedere in terra sotto ai due trench, questi li indosseremo ragazzi, belli belli belli, cinte, borse, questa borsa c'è anche in un colore più scuro, quello laggiù, c'è anche in un colore più scuro che Kat non vi vuole far vedere perché è cattiva, volendo questi sono i tre colori disponibili, la borsa c'è in questi tre colori disponibili, bello, e poi c'erano anche altre borse che vi faremo vedere per questo video in questo momento è tutto, ci vediamo al prossimo, Katia, un abbraccio a tutte, ciao ragazze, ciao ragazze, scusate la mia non partecipazione, faremo una diretta e diremo tutto, spiegheremo un po' di cose, grazie, ciao a tutte, ciao, ciao